Se volete portarvi a qualcosa che sia quel piccolo margine incrementale o che sia proprio capire come uscire dalla stalla, perché o siete nelle stelle, o siete nelle stalle, per cui o siete ostaggio della vostra creatura, che è il prodotto che volevate realizzare, come qualcuno nei coach invisibili mi ha chiamato, ci ha contattato, voleva il coach perché dice io ho una pizzeria da sette anni, e quello è il problema, che va troppo bene, e io non riesco a liberarmi dalla pizzeria, magari sei qua, quello che era con me in diretta due settimane fa, e dice io non riesco più a liberarmi dalla pizzeria, se non ci sono io e i miei collaboratori non lavorano, per cui economicamente va bene, i tavoli sono sempre pieni, però non ha ancora capito qual è il moltiplicatore che lo riesce a svincolare dall'attività, cioè ha ancora correlato il suo tempo con il suo guadagno, che è un qualcosa che io vorrei cercare di scorrelare, di staccare, tempo e guadagno. Mi seguite? Vi piacerebbe alla fine di questi quattro giorni avervi trasferito tutto quello che vi serve per sapere realmente come staccare i vostri guadagni dalle ore che lavorate voi, non per non farvi fare più niente, ma per farvi fare qualcosa di più intelligente, che è migliorare lo stato sociale, migliorare l'organizzazione, migliorare le vostre imprese, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui che voi siate nelle stelle o che voi siate nelle stalle, che siate qui perché siete disperati e volete capire come cambiare, come svoltare, come riuscirci o se siete qui solo per un margine incrementale ce la potete fare a tre condizioni.